buona serata a tutti cari amici e ben ritrovati in questo penultimo video della giornata odierno sul mio canale youtube che parliamo questa volta di dio dato il recente vincitore del settantesimo festival della canzone italiana san remese 2020 che sta andando abbastanza bene su youtube tra il suo canale quello della rai ha totalizzato al momento un totale al netto di 12 milioni e 200 mila clic visualizzazioni come vogliamo dire per una media tra i due video di 6 milioni e 100 mila quindi come c'è scritto nel titolo del video ottimi numeri per dio dato ciao a tutti ci vediamo dopo per commentare la vingente della partita tra sassari e brindisi che si sta giocando proprio adesso in quel di pesaro per la terza sfida dei quarti di finale della coppa italia del massimo campionato italiano di pallacanestro maschile serie a 1 ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti